Allora io volevo salutare tutti gli amici di Casale Monferrato, ho avuto l'opportunità di venire in questo meraviglioso teatro grazie agli amici dell'ASCOMF Commercio, nuovo consiglio direttivo di Casale Monferrato, questa sera celebriamo questa nuova operatività io ovviamente non so se mi conoscete, mi chiamo Antonio Ornano, sono un cabarettista, sono un comico che però vanta un'esperienza di più di 15 anni all'interno del mondo dei commercianti, delle micro piccole imprese e questa sera dovremmo essere qui per cercare di farli divertire, non lo so, ci provo, ce la metto tutta di sicuro questo è uno dei teatri più belli dove io sia mai stato mi auguro di tornarci con il mio nuovo spettacolo che debuterà ovviamente l'anno prossimo si chiama L'Ornano Furioso, se vi capita fate delle petizioni nei confronti del sindaco ditegli che è uno spettacolo straordinario, comunque in ogni caso godetevi questa meravigliosa città e questo splendido teatro grazie mille a tutti, ciao!